entra in un pazzo mondo dove ragazze manga diventano selvagge grazie al sesso crea il tuo harem con le ragazze più arrapate e batte i tuoi avversari in avvincenti contest sessuali identi heroes infatti ti godrai un vero rpg con tonnellate tonnellate di contenuti entai senza censura riuscirai a creare l'harem più coraggioso in questo mondo scopro su harem heroes questo è un gioco multiplayer online famoso grazie ai suoi personaggi parodie di personaggi manga con un pizzico ma molto pizzico di malizia in questo gioco troveremo vari mondi in ogni mondo troverai un troll che tiene segregate le ragazze che vogliono entrare nel tuo harem dovrai combattere per ottenerle un consiglio un migliore equipaggiamento chance di vittoria più alte dato che il tasso di rilascio è random nell'avventura volte troll ti intracciano il cammino dovrai combattere per proseguire le avventure richiedono energia quando avrai svuotato la tabarra potrai ricaricarla con i commands o aspettare che si ricarichi da sola la barra aumenta rispetto al livello le avventure consumano energia ma il danno xp utili per aumentare il tuo livello alla fine di ogni mondo otterrai una ragazza come ricompensa per averlo completato che poi andrà nel tuo harem ogni ragazza dentro il tuo harem ti darai dei soldi il quantitativo si basa su quanto è stata potenziata la suddetta ragazza ogni stella è un livello e ogni ragazza ha tre stelle come ricompensa per il tuo lavoro avrai una scenetta speciale molto speciale puoi scegliere infatti come farla apparire vestirla o meno dopo che l'hai migliorata puoi decidere come deve mostrarsi semplicemente cliccando su uno dei punti migliorare una ragazza dagli esperienza migliora il tuo equipaggiamento puoi scegliere tra vari oggetti nel negozio ognuno di essi avrà un effetto sulle tue statistiche ad esempio l'orsetto ti dà più 12 di fascino e un più 82 di competenza questo ti renderà più forte nelle battaglie se vuoi essere migliori scegli accuratamente i potenziamenti hanno un effetto stupefacente sulla tua potenza e sulle tue statistiche i libri ti daranno esperienza a te e alle ragazze e i regali miglioreranno le ragazze nei combattimenti combatti e scala la torre della gloria queste battaglie ti garantiscono una buona posizione nella torre della gloria più punti esperienza soldi e major grazie a tutti